Martedì 30 aprile in primo piano nel TGL News, il grande fermento in città per la partita di sabato del Piacenza calcio a Siena, partita che potrebbe valere la Serie B, il ritorno in Serie B dopo tanti anni di sofferenza, ricordiamo che il Piacenza è passato anche da un dolorosissimo fallimento, già venduti mille biglietti in città code davanti alla tabaccheria in Piazza Cavalli che appunto vende italiani, si possono acquistare anche online sul nostro sito liberta.it tutti i dettagli. C'è invece un bando che è andato praticamente deserto, è quello che riguarda la gestione dei profughi nel nostro territorio, solamente 4 le offerte, sostanzialmente molti gestori che attualmente ospitano i richiedenti asilo non si sono presentati per il cambio delle condizioni economiche, da 35 euro a 21 euro al giorno per ogni ospite, ebbene la prefettura dovrà ora capire, dopo aver analizzato queste buste, dove poter ospitare le persone perché queste 4 strutture non possono accogliere tutti e 900 i profughi che sono presenti nel nostro territorio. Oggi è anche una ricorrenza triste per Piacenza e tutta la nostra provincia, dieci anni fa, esattamente dieci anni fa, crollò il ponte sul fiume Po, verso San Rocco al Porto, sulla via Emilia, tre feriti gravi, danni enormi al nostro territorio, ma nessun colpevole, così sentenziò il tribunale di Lodi. Fortunatamente ci sono anche notizie positive, ad esempio il fatto che la Camera di Commercio abbia un avanzo di 700 mila euro dopo aver distribuito un milione di euro sul nostro territorio, questo è il bilancio del 2018, presentato questa mattina proprio dall'ente camerale, e stamattina sempre presentati, consegnati anche i pettorali VIP per la Placenza Half Marathon, che si correrà domenica, già sabato però, tutte le iniziative collaterali che solitamente, ormai come da tradizione, coinvolgono migliaia di piacentini, soprattutto molti bambini. Tutto questo e molto altro sul nostro sito, liberta.it, e naturalmente nel TGL delle 19.30. Grazie a tutti.